E diamo il benvenuto al nostro chef, tv chef ormai Andrea Ruschel della sua cucina di Londra, ciao Andrea Ciao Rosita, ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina Tra l'altro Reduce dall'ultima puntata di E' sempre mezzogiorno con la Clerici Noi abbiamo preparato, guardate qui, è stata bellissima, una puntata stupenda che potete riguardare anche su YouTube Che cos'è che avevi preparato? Ho preparato le busiate con il pesto alla trapanese e ci siamo divertiti un sacco, Iandonella E' proprio un sole, guarda, è fantastica E invece cosa ci prepari per questo lunedì? Guarda, oggi cambiamo un po' e facciamo una ricetta dolce, quindi poi si sa il dolce è sempre ben accetto, fine di ogni pasto E per chiudere sempre in bellezza, oggi prepariamo insieme una torta con farina di mandorle e con crema al mascarpone, cioccolato e nocciole Direi poco calorica, direi Comunque scopriremo Sì, però guarda, ravviva il cuore Prima di svelare tutti gli ingredienti e poi i passaggi per realizzare questa ricetta, la nostra sigla Sigla Sono lo chef Andrea Russo, il finalista del programma televisivo Cuochi d'Italia Ante30 Insieme a London One Radio vi farò scoprire la cucina tradizionale E noi ci collegheremo da qui, da Londra, la città delle opportunità Gli ingredienti per questa torta? Beh, siamo curiosi di saperli anche se immaginiamo che c'è di mezzo anche la cioccolata Esattamente, guarda Rosita, iniziamo così Questa torta avrà una particolarità, la farina di mandorle che darà proprio un profumo di oli essenziali a questa ricetta fantastica Poi abbiamo la farina 00 che permetterà all'impasto di lievitare Perché se non abbiamo il glutine un dolce riesce difficilmente Le uova che andremo a montare insieme allo zucchero Poi abbiamo l'essenza di vaniglia, l'estratto di vaniglia L'estratto di limone di Sicilia Crema spalmabile alle nocciole Del cioccolato al latte Del lievito che abbiamo da questa parte Un pizzico di sale che andremo ad aggiungere alla ricetta Poi il mascarpone che è un formaggio molto fresco Che sappiamo in Italia è utilizzato tantissimo soprattutto per il tiramisù Ma questa volta lo faremo in maniera differente Poi non utilizzeremo il burro per questa ricetta Ma andremo a utilizzare l'olio extravergine d'oliva dell'azienda Garofalo Quindi questa ricetta non ha burro E poi per finire Il latte che servirà a dare comunque importanza E un pochettino di liquido alla ricetta E finiremo questa torta con lo zucchero a velo Ah ottimo Quindi non mancherà proprio niente E naturalmente bisogna capire anche come unire tutti questi ingredienti Esattamente Iniziamo con il primo passaggio Rosita ti faccio vedere Il primo passaggio dobbiamo andare ad unire le uova allo zucchero Allora sono delle uova quindi non le separiamo Sono uova intere Le mettiamo in una bowl In questo modo qui Poi Aggiungiamo lo zucchero Lo aggiungiamo tutto Anche con le mani ragazzi Adesso non è che bisogna fare tutti i perfettini Anche con le mani ragazzi Andiamoci dentro tranquillamente Aggiungiamo un pizzico di sale Perché il sale? Perché il sale dà più forza all'impasto e alla ricetta Andiamo ad aggiungere anche l'estratto di vaniglia Ne mettiamo un cucchiaio In questo modo qui E anche un cucchiaio di estratto di limone Se non avete l'estratto di limone con gli oli essenziali Potete anche utilizzare la scorza di limone Ed è la stessa cosa Quindi una volta che mettete tutti questi ingredienti all'interno della bowl Poi basta mischiare Quindi possiamo farlo anche a mano Diciamo con una forchetta Un no so Una frusta Allora io vi consiglio di usare la frusta Perché comunque la dovete montare a neve Oppure comunque se avete un frullatore Comunque una frusta elettrica In questo caso come io Fate meno fatica Perché avete bisogno di 2-3 minuti Per montare la ricetta Cioè per montare le uova e lo zucchero Vi faccio vedere Io inizio E tu se vuoi puoi raccontarci le notizie di oggi Ah sì Perché quelle Andrea non mancano mai Allora mentre il nostro chef continua La sua ricetta di questa torta Poi magari ci spiegherà Cosa è stata ispirata Perché ci vuole proporre questo piatto Una delle notizie di cui non si fa altro Che parlarne qui in Gran Bretagna Forse più dei BAFTA E la festa di San Patrizio Che ha avuto veramente un grande successo Noi ieri siamo andati lì sul posto Phil con il London One Tour Ha filmato il tutto Live E ci sono stati tantissimi di voi Che hanno fatto anche delle domande Sul nostro numero di Whatsapp Non sono mancate Ma la cosa che mi ha sorpreso È che alcuni hanno chiesto Ma San Patrizio chi? Ma perché si festeggia? Ma che è un'occasione soltanto Per andarsi a prendere una pinta di birra al pub? Beh in realtà forse così è oggi Ma in passato questa festa Ma anche per molte persone Oggi nel 2022 È molto importante Perché San Patrizio Ha portato il cristianesimo in Irlanda Però è curioso sapere Che sono stati gli irlandesi in America A creare questa grande festa in strada Per le città E pensate che il primo è stato un irlandese In una colonia spagnola in Florida Che ha fatto questa enorme festa Poi ormai famosa in tutto il mondo La cosa simpatica è che c'è stata anche Marta Marta Lei ci scrive da Londra E dice Io non capisco perché Di solito si vestono sempre tutti quanti di verde Beh il verde è simbolico Nella festa di San Patrizio Il verde è associato al famoso trifoglio Voi vi siete mai domandati Per quale motivo anche in Italia si dice Il trifoglio porta fortuna Ci sono anche queste collanine Con il ciondolo del trifoglio Quanti di voi magari hanno Anche da piccolini ricevuto Un braccialetto con il trifoglio Bene il trifoglio è una pianta Molto comune e importantissima Per il paese irlandese Proprio perché viene da una tradizione celta I celti anche all'epoca La consideravano una pianta sacra E poi con San Patrizio Acquisito un'importanza superiore Perché è servito a San Patrizio Secondo la storia A creare, a svelare E a far capire ai cittadini irlandesi La Santissima Trinità Però adesso che noi siamo Con il nostro Andrea Ruscello Un po' tutti si chiedono Beh di solito in Italia Quando c'è una festa Una tradizione così Noi abbiamo un piatto tipico E ce l'hanno anche gli irlandesi Ma non so se a molte persone Può piacere il piatto tradizionale irlandese Per San Patrizio Allora loro di solito Io sicuramente so che Andrea Si metterà le mani nei capelli Mangiano la carne in scatola Con il cavolo Rosita Eh ho rovinato il piatto Si mangiano la carne in scatola Con il cavolo ragazzi Però guardate che la carne in scatola All'epoca serviva agli irlandesi Perché non potevano mangiare il prosciutto Quelli più poveri Addirittura prendevano la carne in scatola Rimasta in avanzo Nelle navi che provenivano dalla Cina Quando praticamente loro esportavano Ed importavano il tè In tutta la Gran Bretagna e in America Quindi pensate un po' Comunque lasciamo la carne in scatola E il cavolo da una parte Noi ci gustiamo questo piatto di Andrea La torta con questa crema di cioccolato Che fa volare E' pronto il primo impasto? Esattamente Rosita guarda Adesso procediamo con l'impasto per la torta Le uova devono essere schiumose Leggermente montate in questo modo qui Poi con la frusta Andiamo ad aggiungere l'olio extravergine di oliva Dell'azienda Garofalo Abbiamo sostituito praticamente Totalmente quello che è il burro nella ricetta Perché l'olio extravergine di oliva fa bene Però lo dobbiamo saper dosare Perché comunque è molto forte E non vogliamo che copra tutti i sapori della ricetta E poi la ricetta verrà anche più buona Che utilizzando il burro Guarda Lo emulsioniamo in questo modo qui Con il resto delle uova Poi iniziamo ad aggiungere la farina La farina va sempre setacciata per fare un dolce Quindi aggiungiamo la farina nel setaccio Iniziamo a setacciare La dividiamo in due parti Quindi una parte l'abbiamo già inserita Ve la faccio vedere E' così Iniziamo a mescolare leggermente Senza smontare le uova Facciamo incorporare per bene la ricetta Guarda Su questo procedimento che sto facendo adesso Ci saranno molte persone che diranno Perché non sta utilizzando il leccapendole Per incorporare alle uova la farina Perché così si sciolgono meglio i grumi Perché se ci dovessero essere grumi nella farina Con la frusta Quella normale Non quella elettrica Si vanno a dissolvere No in realtà c'è Francesco da Londra Che chiede perché hai deciso di dividere in due parti la farina Per far sciogliere meglio i grumi Allora se la mettiamo tutta in un'unica volta Rischiamo che l'impasto diventi subito molto duro Ah poi c'è il latte che cerca di ammorbidire Aggiungiamo il latte a questo punto qui L'impasto che deve essere bello morbido Nel latte andiamo ad aggiungere anche il lievito Perché il lievito? Perché si scioglierà insieme al latte E andrà a dare forza a questo impasto Perché lo sappiamo Tutte le torte O almeno quasi tutte Tranne il pan di spagna Vanno a richiedere una dose Abbontante di lievito Per farla bella gonfia Bella alta Esattamente Rosita Poi andiamo a incorporare il tutto In questo modo qui Guarda questa qui è una ricetta fantastica Questa qui se la prepari E poi la mangi fredda da frigo Con questa crema al mascarpone Nocciola e cioccolato È veramente molto molto goduriosa Rosita andiamo diciamo a oleare La teglia La teglia Perché la dobbiamo oleare Perché se non oleiamo la teglia Rischiamo che la nostra torta Si possa attaccare E non staccare facilmente Quindi con un pezzo di carta Andiamo a fare questo movimento qui Sai cosa? Togliere l'olio in eccesso Sì dimmi Rosita Ma la carta da forno Anziché l'olio? Sì dipende che tipologia di teglia Stiamo utilizzando Si può utilizzare anche la carta da forno Io in questo caso qui Sto utilizzando una teglia Con una cerniera Che poi la vado a staccare Mi resta la torta appoggiata Sul piano di lavoro Sulla teglia Però se abbiamo una teglia Classica Comune Mettiamo la carta da forno La tiriamo via con tutta la carta Si può fare anche in quel modo lì Poi aggiungiamo un po' di farina Zero zero Esattamente La facciamo attaccare Dobbiamo fare un pochettino di movimento così Comunque è velocissima questa torta È proprio veloce Sì sì guarda Rosita L'unico tempo che ci vuole È quella di cottura Che comunque Sta in forno 20-30 minuti Circa a 200 gradi Poi La andiamo a staccare Quindi adesso io Mi avvicinerò al lavandino E toglierò tutta la parte di farina Che comunque è in più Perché la dobbiamo togliere Perché altrimenti ce la ritroviamo nell'impasto Quindi adesso io mi avvicino al lavandino Faccio un movimento con le mani sul fondo E adesso basta versare l'impasto Molto semplicemente Adesso basta versare l'impasto All'interno della nostra teglia Poi in questo caso qui Stiamo utilizzando l'olio dell'azienda Garofalo Che è veramente un olio fatto con olive Beh 100% italiane E' veramente fatto bene Fatto col cuore Guarda andiamo a utilizzare adesso Lecca pendole per versare tutta la torta Io amo le lecca pendole Tutto l'impasto all'interno Per qualsiasi cosa Poi Rosita adesso è arrivato il momento Di infornarla E la mettiamo in forno a 200 gradi Per circa 20-30 minuti Dipende il forno Io ho un forno ventilato Ma se abbiamo un forno statico Facciamo circa Molto importante Facciamo 180 gradi Per 30-35 minuti Perché ci vuole più tempo Procediamo adesso Con la preparazione della nostra crema Che farcirà questa torta Allora iniziamo così Rosita Il mascarpone Aspetta che prendo un lecca pendole Ecco qui Guarda quanto è buono Come ha attrezzato Andrea Il lecca pendole Non devono mai mancare in cucina Allora Mascarpone italiano Guarda Rosita Io amo il mascarpone Perché sono un amante del tiramisù E poi questa ricetta Diciamo Per chi ha provato mascarpone Crema spalmabile alle nocciole Sa di cosa sto parlando È veramente un orgasmo Per il palato Credimi No mi piace No ma Infatti già stanno commentando Tra l'altro c'è Invece Marta Dice ma possiamo utilizzare Qualsiasi tipo di Crema alla nocciola Che troviamo? Sì 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 Potete utilizzare Qualunque tipo di Crema alla nocciola Spalmabile Che trovate comunque Al supermercato E poi Allora Ci siamo Guarda Mischiate queste due cose Poi andiamo a frullare Con il solito frullatore Che abbiamo utilizzato Per frullare Poco fa L'impasto Della torta I procedimenti Sono veramente molto veloci Una volta che avete Tutti gli ingredienti Dovete fare un mix Per l'impasto Della torta Lo stesso anche Vale per La cioccolata La crema al cioccolato In questo caso Vi servirà il mascarpone Che poi lo trovate ovunque In qualsiasi supermercato inglese Il mascarpone c'è Non è che una cosa italiana Allora non si trova Esatto Rosita Questo qui È la crema Diciamo che è quasi Una mousse Cioccolato e nocciole E mascarpone Quindi è veramente Freschissima Mangiare questa torta Sarà quasi È come sentirsi In paradiso Eh vedi Buonissima Entro quanto Poi deve essere Consumata la torta Perché comunque Sono prodotti freschi Guarda Rosita Massimo Due giorni Due giorni Massimo due giorni Sì sì Tre comunque Se non ce la facciamo Se qualcuno Magari Lavora in un ufficio Inizia a condividerla Con gli altri Perché comunque È bella grande Per quante porzioni Può fare quella torta Circa otto porzioni Ma poi comunque dai Facciamo Se siamo quattro a pranzo Ne mangiamo Cioè Quattro persone a pranzo Ne facciamo Quattro pezzi a pranzo Quattro a cena Ed è finita Finita in un giorno Neanche due Esattamente Allora Andiamo a mettere Nel sac a poche Andiamo Andiamo a togliere L'aria In eccesso Che c'è All'interno del sac a poche E io vi consiglio Di farla Di metterla in frigo Per il tempo Di cottura Della torta Quindi nel frattempo Che la torta si cuoce Questa qui si mette in frigo Io Guarda Rosita Io come sempre Mi porto avanti Perché noi dobbiamo andare Molto veloce Fai bene E io me la sono già preparata E io me la sono già preparata Guarda Rosita Questa qui è quella Già che abbiamo messo in frigo E poi un trucchetto Chi non ha la sac a poche a casa La può realizzare da sé Anche con una carta da forno Oppure con Come si fa Adesso ti faccio vedere Come preparare Eh dai vediamo Un trucchetto Ti faccio vedere Come preparare Una sac a poche Con Con la carta da forno Allora si deve innanzitutto Fare un Diciamo quasi un triangolo Diciamo Deve avere questa forma Poi Dalla parte più lunga Si inizia ad attorcigliare Con la punta Da quella parte Nella parte sinistra Si gira In questo modo qui Poi La parte esterna Si piega All'interno Ecco qui Rosita Questa qui È la sac a poche fatta a casa È come se fosse comunque Un cono Eh La stessa forma Di un cornetto Ah eccola la torta Esattamente Rosita Guarda Io mi sono Sempre come sempre Portato avanti Qui abbiamo la crema Per farcirla Questa qui Sarà l'aspetto Finito della torta Ve la faccio vedere Sia di sotto Che di sopra Il colore che dovrà avere Al di sotto Sarà questo qui Quindi diciamo Un marroncino Molto ambrato Sarà molto molto lucida Come potete vedere Anche nei bordi Lo spessore È di circa Mezzo dito Poi Andiamo Andiamo a mettere Su il piano di lavoro E dobbiamo Dobbiamo eliminare Comunque La parte Che non ci serve Ok Quindi coltello Quindi coltello Seggettato E andiamo A togliere La parte Di sopra Quindi la superficie Bene La superficie La andiamo ad eliminare Poi ovviamente Non la buttiamo Rosita Questa qui ovviamente La mattina Ce la inzuppiamo In un po' di latte Ci sta benissimo Mamma mia Rosita Guarda Fantastica Ok Perché io pensavo Che la parte superiore Servisse per chiudere la torta Invece no Vuoi lasciare comunque La crema A ben vista Per decorarla Esattamente Esattamente Rosita Vedi com'è all'interno È piena di alveoli Perché comunque La lievitazione Porta anche questo Agli alveoli No Poi Andiamo a Tagliarla Ancora una volta A metà Quindi sarà divisa In due metà Questa torta Per me Questa risulterebbe La parte più difficile Perché Devi fare Praticamente Un taglio Perfetto Per evitare Che ci siano Se quelle Diciamo Diciamo di sì Rosita Guarda Questa qui È la torta Questa qui La giriamo Al contrario Perché è la parte migliore E abbiamo risolto Il problema Ecco Rosita Poi ovviamente Questo qui Ce lo mettiamo da parte Perché ce lo mangiamo In un secondo momento Ce lo inzuppiamo Nel latte Facciamo un pochettino Quello che vogliamo Ma si avanza anche Il cioccolato Possiamo fare anche Dei piccoli tortini Se volete Si avanza Assolutamente Sì Se vi avanza Comunque anche L'impasto della torta Potete farlo a parte Comunque Sarà veramente Fantastico Qual è il latte? Questo qui È del latte Che dobbiamo andare Comunque A bagnare l'impasto L'impasto Comunque è già molto umido Perché abbiamo La farina Di La farina Di mandorle Che rende l'impasto Molto umido Allora innanzitutto La mettiamo Prima su un piatto Così ci portiamo Avanti Guarda Rosita Questa qui È la parte Quella di sotto La metterò di sopra Perché è la parte Più liscia Quindi sarà la parte Che sarà coperta Esattamente Dallo zucchero a velo La parte che prima Era di sopra Che magari è quella Un pochettino più brutta La mettiamo sul fondo E abbiamo risolto il problema Così non si vede Rosita Esattamente Rosita Poi Allo latte Dobbiamo andare A aggiungere Guarda Aspetta un altro Ci sono Andiamo ad aggiungere Un pochettino Di zucchero a velo Perché dobbiamo dare Un pochettino Di dolcezza Alla nostra bagna In questo modo qui Due cucchiai Di zucchero a velo Due cucchiaini Scusami Poi Un po' di estratto Di limoni Di Sicilia Non c'è alcol In questa torta E andiamo a mescolare tutto No 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 Non c'è alcol Rosita A me l'alcol Non fa impazzire Nelle torte Ma poi dipende Se volete Potete anche Aggiungere Il limoncello Sia all'impasto Sia all'impasto Sia all'impasto Della torta Che alla bagna Comunque per i bambini Questo è ottimo Perché Questo qui è ottimo Perché non c'è alcol Ed è veramente Una ricetta semplice Fantastica Poi con l'olio extravergine Di oliva Veramente Veramente delizioso Guarda Rosita Andiamo a bagnare Tutta la torta In questo modo qui Comunque deve essere Bella inzuppata Perché Se poi c'è la crema Che diciamo Una mousse Freschissima E c'è anche la parte Della Della torta Che è stramorbida Sarà veramente Tutta un'altra storia Andiamo a bagnare In maniera abbondante Tutta la nostra superficie E tu Rosita Quindi mi hai seguito Dalla Clerici No è stata veramente Una puntata pazzesca Abbiamo seguito Tutta la puntata Ed infatti Eccole qui Anche le foto Le foto ricordo Che abbiamo Realizzato anche noi Ma come è stato Poi anche l'entrata Perché ti ho visto Eri un po' Emozionato all'inizio E poi come da te Hai subito ripreso Guarda all'inizio Poi ho ripreso Di nuovo Perché la Clerici Mi ha messo subito A mio agio Io comunque ero Molto emozionato Di incontrare Antonella Perché da sempre È stata un mio mito In cucina La seguo veramente Da quando ero piccolissimo Quindi diciamo Che ero molto Esattamente Nella prova del cuoco Poi comunque Veramente È stata fantastica Mi ha messo subito A mio agio E mi ha fatto stare bene Dai Allora Rosita Continuiamo con il procedimento Adesso c'è la sacca poche Che deve Iniziamo con la sacca poche Quindi andiamo a fare Degli spuntoni Abbastanza alti Dove andiamo a mettere La crema In questo modo qui E la andiamo A riempire Allora Rosita Guarda La parte più Importante Diciamo È che gli spuntoni Li facciamo Dalla parte Dalla parte di fuori Così Semplicemente Perché la parte più importante Quella? Anche per fare aderire La superficie? Allora no Rosita Facciamo degli spuntoni Di fuori E poi ti faccio vedere Cosa facciamo Con il resto della crema Perché così Avrà un aspetto Molto più bello Perché La parte di mezzo La parte del condimento Sembrerà molto 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 Bella da vedere Dal punto di vista visivo Sì 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 Guarda Adesso prendiamo L'altra sacca poche Rosita Così E quella che andiamo A mettere al centro Non ci sarà bisogno Comunque Di andarla A posizionare A spuntoni Così Possiamo semplicemente Farcirla In questo modo qui Come fanno un pochettino In pasticceria Perché quando facciamo Una cosa molto veloce Non c'è Non c'è mai il tempo Di fare tutti questi spuntoni Quindi la parte Interna Cioè esterna Sarà bella decorata E invece la parte interna Sarà meno decorata Poi Dopo aver fatto questo Con un cucchiaio Andiamo a Distendere la parte interna E a farla Un pochettino Più omogenea E andiamo a Disperdere In questo modo qui Marta In questo momento Ti sta chiedendo Ma possiamo aggiungere Della frutta Tipo delle fragole? Certo Potete metterle sopra Potete metterle all'interno Addirittura potete Se vi piace Anche ricoprire Diciamo La torta Con Con la panna E poi Aggiungere Le fragole Al di sopra E' corregita Guarda Ah è già pronta Vedete? Allora aspetta Sì 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 Quasi Ci siamo quasi Andiamo a mettere Lo zucchero a velo Che andiamo a Setacciare In questo modo qui Andiamo a mettere Un bel po' Quindi poi Quando la tagliate C'è praticamente Questo strato Di crema Al mascarpone Con cioccolato Che è bellissima Poi buona da mangiare Guardate che bella Esattamente Poi Guarda è quasi Un monte bianco Diciamo Rosita Ma adesso ti faccio vedere Che cosa facciamo Con la sac a poche Che mi sono preparato Precedentemente Allora innanzitutto Facciamo un po' Di ordine E un po' Di pulizia Perché Rosita E beh Quello non manca mai Dobbiamo un pochettino Sistemarci Lo diciamo sempre Anche durante la nostra puntata Di Ascoltaci con gusto Allora Allora Andrea è già pronto Guardatelo qui Ecco qui Ci siamo Poi abbiamo Ti faccio vedere Un'ultima parte Che adesso Andiamo a fare Una scritta Sulla torta Ti faccio vedere Che sorpresina Che facciamo Andiamo ad aggiungere Anche un pochettino Di farina di mandorle Al di sopra Quindi zucchero a velo Farina di mandorle In questo modo qui Ti volevo fare Una domanda Hai mai provato A scrivere su una torta? No Perché è la cosa Più difficile Di questo mondo Per me Poi non so Gli ascoltatori Se hanno mai provato A farlo Adesso la vedete Bellissima Così bianca Però se non siete capaci A fare delle scritte Poi il risultato Il risultato Potrebbe essere Tremendo Rosita Però La soluzione sarebbe Togliere il cioccolato E ricoprirla nuovamente Con una bella dose Di zucchero a velo Esattamente Perché lo zucchero a velo È famosissimo Perché toglie tutti gli errori Con la saccapoce Che noi abbiamo realizzato prima Con la carta da forno Riscaldiamo Il cioccolato Quindi a bagno Il cioccolato al microonde Al microonde Lo possiamo fare anche al microonde Per circa un minuto Lo andiamo a sciogliere Nel frattempo che Si scioglie Rosita Ti faccio vedere Un pochettino Com'è la torta Te la faccio vedere Vedi che gli spuntoni Che abbiamo fatto Al di fuori Si notano che La rendono ancora più carina Va bene Allora mentre Andrea Si prepara con la cioccolata Io direi di andare avanti Anche con le notizie Non so se lo sapete Ma in una zona Così lontana di Londra Si chiama Silverton Quays Non so se ci siete mai stati Molti di voi forse Non ci vanno Perché è veramente Un posto desolato Non c'è quasi niente È bruttissimo Ma in realtà Verrà rivalutato Verrà tutto bonificato Restaurato E stanno pensando Di aprire Pensate un po' Un nuovo hub Creativo Dove musica E cultura Saranno i protagonisti Quindi Nuovi concerti Anche di artisti Emergenti Locali Verranno realizzati Proprio in questo quartiere Che è molto bello In realtà Tante potenzialità Non a caso È stato scelto Per questo motivo E si trova proprio vicino Il fiume Tamigi La cosa importante È che All'interno di questo hub Creativo Si farà all'aperto Ed infatti Verrà proprio inaugurato Verso La fine di quest'estate 2022 E ci saranno Tantissime iniziative Che credo anche voi Potete realizzarle Poi sul nostro sito Londovoaradio.com Potete dare un'occhiata Perché abbiamo scritto Un articolo Con tutti i dettagli Ci sono già due eventi Prenotati E a quanto pare È già sold out Allora Andrea Invece è pronto Con la nostra Crema di cioccolato Ecco qui Rosita Io sto mettendo Il cioccolato Che abbiamo Infuso al microonde Mi raccomando Non lo facciamo andare troppo Se no Rischiamo che si bruci E iniziamo A scrivere Sulla nostra Sulla nostra torta Sì ma Andrea Ci vuole precisione Cioè Tu hai la mano Proprio addestrata Ecco vedi Però questo è un Trucchetto Una mano per supportare L'altra Quella destra Per scrivere Sulla torta Esatto Così è ferma Ovviamente Il titolo Della nostra rubrica Ascoltaci con gusto È bellissima Poi questa torta Tutta bianca Con la farina di mandorle Che voi potete mangiare E la scritta Al cioccolato Voi potete scrivere Quello che volete Insomma potete dedicare Questa torta Al vostro amato Alla vostra amata Facile Semplice Come vi ho fatto vedere Se volete la scritta La fate Altrimenti Come diciamo sempre Ascoltaci con gusto Con questo piatto Dedicato a tutti voi Di questo pomeriggio Che concludiamo La nostra puntata Di Ascoltaci con gusto Che potete seguire Ogni lunedì Vero Andrea Alle ore 16 Esattamente Ci vediamo Ciao Andrea Allora ci vediamo Al prossimo appuntamento Con una nuova ricetta Tutta da scoprire Cosa rende Garofalo Una pasta diversa? Le persone Hanno una sensibilità Speciale Verso la pasta Sono portatori Di una conoscenza Passata per generazioni Abbrate il figlio Spieghiamo la migliore Tecnologia industriale Ma vogliamo continuare Ad essere artigiani E narrare da qui Da Gragnano La storia di una pasta Meravigliosa